si ha fatto 0 ma perchè ti ho incontro quello che è col punteggio con cui siamo arrivati oh e beh ragazzi bentornati qui sul mio canale Allora, nello scorso match si è aggiudicato il nostro Ram The Red, quindi il nostro Davide. Abbiamo fatto il primo match, l'ho vinto io, secondo me si è vinto lui. Questo sarà il match dello spadeggio per questo torneo. Direi di iniziare. Questa quasi userei lui. Ah, che io volevo? Davvero? Vabbè, niente, facciamo così. Alla meglio, alla pegno. Caspian board. Minchia, ramen. Siamo in... Via. Lo rupeggia. Oh, ai, ai, ai. Poggi un'altra. No, sono dove andare. Che! 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 Toglie tre punti comunque, eh? Minchia, 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 minchia. Porca vacca! Porca vacca! Minchia, 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 minchia. Minchia, minchia. Minchia, minchia. Minchia. Minchia, minchia. Minchia, minchia. Minchia, minchia. Minchia, minchia, minchia. Minchia, 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 minchia, minchia. Minchia, 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 minchia. no 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 ah no no oh 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 0-0 7 2 1 Sudden down NO SII NO SI HAHAHAHAHAHAHA HAHAHA HAHAHA 0-0 Ma perchè te ne incontro Quello che è col punteggio con cui siamo arrivati HAHAHAHAHA Orso dunque Visto che non ho visto ancora Do un punto a me Va bene dai Do un punto a me e 0 a te Non lo insegno a te perchè non vali niente E' un porco lo so Cos'hai che ha detto? Ci usi di scappi Ma è cadente O 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